Anche oggi andrò velocissimo per raccontarvi questa storia, un po' direi succosa, di un'azienda spagnola che è iniziato nel 1957. Stiamo parlando del fondatore che è Enric Bernat, che ha iniziato a creare la Productos Bernat in Spagna, a Barcellona, con sua moglie, con quella che poi è divenuta sua moglie, e poi un amico di famiglia gli aveva chiesto di acquisire, se era interessato ad acquisire, la sua azienda di mele. E da lì Enric ha iniziato ad avere un'intuizione. Pensava ai dolci per i bambini e alle caramelle, che quando si scartavano i bimbi avevano sempre queste mani appiccicose della caramella, e quindi ha pensato di inventare i Lecca Lecca e da Chupar, che significa succhiare, ha creato la Chupa Chups. Ciao a tutti!